Concorsi 2.0 Volta Mantovana, in occasione degli eventi organizzati da Palazzo Ducale, in elogio al grande architetto rinascimentale Giulio Romano, anche il Comune Voltese si affianca con un concorso di disegno digitale coinvolgendo molti esperti e professionisti della zona europea ed extraeuropea. Da tempo aspiravamo a ricreare un collegamento tra il Palazzo Gonzaga di Volta Mantovana, Residenza Estiva dei Gonzaga e il Palazzo Ducale di Mantua. L'opportunità ci è stata offerta dal direttore del Museo di Palazzo Ducale con la mostra dedicata a Giulio Romano e quindi in questa occasione pensiamo appunto di organizzare come Comune di Volta Mantovana un concorso internazionale di disegno dedicato proprio a Giulio Romano e quindi un concorso di disegno contemporaneo dal titolo con una nuova e stravagante maniera per utilizzare una definizione che lui stesso dava alla propria opera. Il concorso si chiama Con nuova e stravagante maniera e effettivamente anche la tecnica che noi utilizzeremo per il concorso è in qualche modo nuova e stravagante perché utilizzeremo il disegno digitale. Il disegno digitale adesso è molto utilizzato anche da grandissimi artisti, prevede per esempio l'utilizzo di tablet e delle nuove tecnologie e proprio come Giulio Romano era innovatore nella forma e nel metodo ecco che anche questo concorso comunque si pone in modo nuovo nella tecnica però allo stesso tempo anche guardiamo molto al nostro passato, alle nostre origini perché il richiamo è chiaramente a Giulio Romano.